Prima l'anatra zoppa, poi le elezioni regionali, infine le polemiche e le rotture interne alla maggioranza. Una città ferma, non governata, in balia di se stessa. Non è soltanto la percezione di molti cittadini e associazioni, ma anche di esponenti della maggioranza, come il capogruppo di Fratelli d'Italia, Giorgio De Matteis, politico di lungo corso, noto avversario dell'ex sindaco Massimo Cialente, che non rinuncia a dure sferzate verso un'amministrazione comunale che, quasi due anni dall'avvio del suo mandato, non ha prodotto molto. De Matteis non ci sta a vedere una città lasciata allo sbaraglio nel momento delicato della terza fase della sua vita post-sisma. Non ci sono più alibi, dice De Matteis. Da mesi avevamo chiesto una valutazione complessiva dell'attività della Giunta sempre rinviata. Ora si faccia sul serio. È urgentissimo affrontare il rinnovo della composizione del nuovo esecutivo dal momento che l'attuale risulta ormai monco e non adeguato alle esigenze legate alla complessa amministrazione della città. Dello stesso tenore anche il parlamentare della Lega, Luigi Deramo, che è anche assessore comunale all'urbanistica, anche lui finito nel turbine delle polemiche, critiche nei suoi confronti, sono arrivate persino dalla sua stessa maggioranza, per essersi quasi da un anno, e cioè da quando è diventato parlamentare della Lega, defilato dal suo impegno in seno all'amministrazione comunale, lasciando in sostanza nell'immobilismo un settore molto importante e delicato per l'Aquila, in cui il terremoto ha imposto non soltanto la ricostruzione, ma anche un nuovo assetto urbanistico, tutto ancora da avviare. Urge fare chiarezza nella maggioranza di centro-destra dell'Aquila, a sorta D'Eramo. La Lega chiede con urgenza una riunione di coalizione. Questa situazione di caos politico, aggiunge il vice coordinatore della Lega, rischia di paralizzare la macchina amministrativa, e gli anni che abbiamo davanti richiedono un grande sforzo e una maggiore serietà.